Ciao a tutti gli amici di pistachissimo.it, continuiamo con le colombe al pistacchio ma questa volta ci allontaniamo dalla Sicilia per andare a Torre del Greco in provincia di Napoli e provare la colomba al pistacchio di Cesto Mi è arrivata in questa confezione super semplice, direi minimal, che rappresenta un po' lo stile genuino di Cesto Bakery Come sempre partiamo dall'etichetta, abbiamo una colomba artigianale da 1 kg farcita con crema di pistacchio la percentuale di pistacchio è del 20%, non altissima ma come sempre aspetto di assaggiare per giudicare Inoltre sulla copertura troviamo della granella di pistacchio All'interno ovviamente non ci sono né uvetta né canditi ma c'è un po' di pasta d'arancia e delle bacche di vaniglia come aromi naturali E quindi andiamo ad aprire Ed ecco qua la nostra colomba, come vi dicevo, granellata fuori e farcita dentro Ed eccola qua, la granella è veramente molto uniforme, ricopre quasi totalmente la superficie della colomba Purtroppo dato che mi è stata spedita durante il viaggio si è un po' ammaccata da questa parte ma è piuttosto inevitabile quando si spediscono i prodotti lievitati Il profumo è veramente fantastico quindi non vedo l'ora di assaggiare, direi di andare a tagliare Ed ecco qui la nostra fetta di colomba C'è un bel po' di crema di pistacchio da questa parte E anche qua, qua sopra, direi che è ben farcita Approfitto dell'impasto che si è staccato qui Mmmmm, molto molto buono Non ci sono assolutamente aromi indesiderati quindi nessuna arancia o vaniglia invadente Tutto bilanciato molto bene Poi è bello morbido, direi quasi briosciato A me piace, semplice ma buono Ma adesso è arrivato il momento di passare al pistacchio Mmmmm, buona Mmmmm, la crema è veramente deliziosa Molto leggera, si amalgama benissimo con l'impasto È veramente buona, buona, buona Mmmmm, leggermente troppo tostata Il che fa virare un po' il gusto verso quello della nocciola Però è, credetemi, veramente buonissima E passiamo quindi alle conclusioni Che dire, lo avrete capito Mi è piaciuta davvero parecchio E quindi il voto sul gusto di pistacchio è questo Mi è piaciuto veramente tanto come si uniscono l'impasto e la crema L'impasto è semplice, un po' briosciato Ma nella sua semplicità veramente molto buono È la crema con questo gusto piuttosto avvolgente Un'ottima cremosità e oserei dire che è anche abbastanza leggera Quindi nonostante la percentuale del 20% Un'ottima crema Unico difetto da cui il voto Questo eccessivo grado di tostatura Che fa virare un po' il gusto verso quella della nocciola Quindi buonissima ma non pistacchio al 100% Almeno come percezione di gusto, è chiaro E quindi complimenti a Cesto E grazie per avermi inviato questa colomba da recensire Se volete provarla la trovate ovviamente nel loro negozio Ma fanno anche spedizioni tramite il loro sito web Con questo è tutto, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video Grazie per aver guardato il video